Ciao, mi chiamo Stefano Borselli. Io pratico arti marziali e difesa personale da parecchi anni. Sono un istruttore internazionale di difesa personale accreditato. In questo corso insegniamo alle persone a potersi difendere, a cercare di capire, prevenire il problema. Nel momento in cui c'è il problema le persone devono sapersi comportare. Tutti gli esercizi che facciamo servono a potenziare la muscolatura perché una buona difesa personale nasce innanzitutto da un fisico preparato. Facciamo le flessioni, facciamo addominali, esercizi per migliorare le articolazioni. Successivamente si passa a tecniche di difesa. Tutte quelle tecniche che possono aiutarci a uscire da un'aggressione. Un'altra cosa fondamentale è imparare anche, oltre che a schivare i colpi, anche a produrli, per cui devo saper tirare un pugno, tirare un calcio. Alla fine della serata si fa sempre una parte di stretching e anche una parte di massaggio. Non si tratta di uno sport cattivo, aggressivo, ma è uno sport di gruppo, è una disciplina che ci aiuta a difenderci. Si passano le serate a lavorare, si lavora sodo, poi si va anche a mangiare una pizza insieme, per cui anche convivialità.